È il reperto più identitario di quelli del Museo Nazionale d'Abruzzo. Il mammut al forte spagnolo, ancora interessato da lavori di ristrutturazione, sarà visitabile con un'apertura straordinaria il 30 e il 31 ottobre dalle 10 alle 22. Un momento unico e atteso in vista del ritorno del mundo al castello. Le opere del primo lotto sono quasi terminate, entro fine anno, al massimo a gennaio, si vogliono concludere i lavori e si cercherà di trovare un compromesso per consentire la riapertura del museo senza intaccare le altre lavorazioni. I lavori al forte spagnolo sono iniziati nel 2012, a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra sovrintendenza e Munda per fare il punto, il rientro sarà graduale. Il secondo e terzo stralcio dei lavori sono stati finanziati e si andranno avanti spediti, ha detto il segretario regionale dei beni culturali Macri, che ha detto pure che a breve partiranno le gare per Duomo e Chiesa di Santa Maria Paganica. Ritengo che questa apertura costituisca, diciamo, sia molto più importante perché deve accompagnare quella che è la ricostruzione cosiddetta materiale, fisica, sono termini impropri, ma quello che occorre è che questi eventi proseguano, infatti avremo altre aperture straordinarie a distanza ravvicinata, proprio perché questo aspetto, come mi è stato evidenziato, rappresentato da Monsignor Petrocchi, è importante per una ricostruzione interiore della società e della popolazione che è stata profondamente ferita. Il primo lotto dei lavori si chiuderà entro un mesetto circa e poi abbiamo avuto da parte del CIPES la possibilità di avere gli altri due stracci di finanziamento che dovrebbero arrivare a momenti e quindi si continuerà il lavoro, questo ci permetterà di chiudere il lavoro entro un paio di anni e riconsegnare il castello alla città. Lo scheletro del mammutte al castello dal 1960 risale a 1.300.000 anni fa, rinvenuto in una cava di argilla scoppito nel 1954. Messo in salvo dal sisma, fu esposto per un breve periodo nel 2015. Il restauro è stato possibile anche grazie a una donazione della Guardia di Finanza di 600.000 euro. Anche il 4 dicembre ci sarà una visita straordinaria, dedicata alle persone con disabilità, organizzato dall'Unione Uccechi. Si lavorerà per predisporre altre aperture, però lo ha detto anche Maria Grazia Filetici, direttrice del museo. Le prenotazioni saranno aperte dal 25 al 29 ottobre. Le visite saranno suddivise in gruppi di 20 persone ogni 20 minuti.